buongiorno a tutti allora prima del video precedente dove l'ho fatta vedere ma bisogna far vedere la maglietta della settimana con la frase della settimana quindi piano 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 eccola qua ma di che cosa parleremo oggi ragazzoli ragazzoli di questo secondo video di con gli us ma innanzitutto parleremo degli attori dieci attori ma ce ne saranno sicuramente molti di più ma cinematogra.it ha scelto questi dieci che diciamo del pathos del film perché si sono trovati in una situazione che ai me non è semplice da gestire diciamo così hanno avuto il risveglio del pennacchio ecco chiamiamolo così il risveglio del pennacchio poi di che cosa parleremo parleremo della differenza che c'è del tempo del cuore del pianeta terra e sul pianeta terra diciamo che ci sono delle differenze di tempo di tempo chiamiamolo così e ne parleremo al centro il centro della terra a un anno questo momento loro sono del tutto tutto al centro della terra e la terra invece siamo del 6 il 7 luglio del 2000 e 23 invece al centro della terra siamo del 2021 più o meno poi parleremo da sempre per la questione diciamo del pennacchio c'è questa persona che c'è il pennacchio che si risveglia un po' troppo spesso e la fidanzata non ne può più non ce la fa più non ce la fa più e poi parleremo del di una questione dell'acqua c'è questa situazione acquatica chiamiamola così che a causa di questo motivo ha creato una determinata cosa curiosa questa è una cosa molto molto curiosa detto questo ragazzoni andiamo a leggere il pennacchio diciamo che è una un video sul pennacchio scusatevi stop un attimo e poi partiamo perché mi devo soffiare il d'appo orsocappo ma iniziamo 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 sono tanti gli attori che si sono davvero eccitati sul set tuttavia è impossibile avere il controllo di tutto in modo particolare a sfuggire alla ragione solo i sentimenti e le emozioni così anche un professionista della recitazione prova difficoltà a nascondere ciò che prova in alcuni momenti e alcuni di questi interpreti sono piuttosto celebri da henry cavill a scott eiswood scoppiamo insieme chi sono le star che si sono eccitate durante le riprese di alcune scene ringraziamo come sempre cinematogra.it e iniziamo proprio da henry cavill che è uno degli attori che si è davvero eccitato proprio tanto tanto sul set e infatti racconta mi è successo solo una volta di eccitarvi sul serio sul set ed è stato molto imbarazzante ha costessato henry cavill a best fitness del 2015 le scene di sesso sono quasi sempre difficili messo tra virgolette da girare anche perché non stai facendo un ecco stai facendo un film di quelli seri chiamiamoli così non è un film di quelli a luce rosse quindi è normale lì si vede di tutto e di più evoluzioni che uno pensa lì stai facendo un film c'è la scena di sesso in cui teoricamente sono sotto le lenzuola non si vede solitamente non si vede granché ogni tanto si vede qualcosina ma niente di eclatante poi qualcosa magari si vede anche però dei limiti ecco per intenderci andiamo al secondo attore evan mcgregor evan mcgregor si è citato durante le riprese della commedia della bbc scarlet and black mi sono sdraiato su di lei e iniziarono a tirare indietro le lenzuola in modo tale da rendere visibile il mio sedere eravamo entrambi completamente nudi non didassavamo nulla egli io ebbi un'erezione fu davvero molto imbarazzante ha raccontato evan mcgregor james mccavoy o mccavoy mccavoy durante le riprese di shameless mi sono eccitato più volte ha rivelato l'attore al times di solito è davvero difficile girare quel tipo di scena perché si tratta più di far sembrare tutto molto reale taraji p henson mi sono eccitato durante le riprese di empire è difficile per un uomo trattenersi o nascondersi e purtroppo noi il pennacchio si sveglia quando il pennacchio si sveglia si sveglia ragazzi di ai c'è poco da fare le donne possono eccitarsi ma c'è la patatina la patatina a meno che non si mettono puntini puntini poi va bene sono anche brave a fingere come quella famosa scena di harry ti presento selly ma lasciamo perdere live scriver live del 1994 durante le riprese del film big seduz ha affermato di aver avuto la migliore reazione della sua vita se lo dice lui ben di dare durante le riprese di strike s quando ero a letto con gillian anderson non potevo più alzarmi dal letto a causa di una forte eccitazione e rimbarazzato perché lei se ne era accorta ebbe avrà sentito il pennacchio e io ricorderò sempre quella voce ciale lo rinfacciarono poi il giorno dopo che gli ho fatto sentire la sequoia alla mia compagna di classe mentre ballavamo perché c'era stata la festa di file anno della villa di una nostra compagna di classe o di un nostro compagno di classe non mi ricordo di chi era il villone libidile e ballando con questa mia compagna di classe è il pennacchio si è sentito con dai 15 anni si doveva avere 15 anni se non ricordo male lei era una bella pulsella e il giorno dopo vi fanno gg a ieri vi hai fatto sentire ragazzi vero male jesse mccalf ha detto alla stazione radio 106.5 sacramento nella prima scena di disperate oswise quando gabriella e giovanni hanno fatto un amore per la prima volta il regista aveva chiesto di ripetere la scena e di scendere dal letto e io chiese un minuto per per far tornare a cuccia il pennacchio scusate il mio raffreddore per far tornare a cuccia il pennacchio c'è il metodo delle tabelline ragazzi o c ok 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 mi è successo più volte dieci tardi sul set succede quando reciti una scena con una ragazza super attraente e quando la baci il sangue inizia a scorrere della zona meridionale infatti se si fa la battuta che che il bacio è una telefonata al pennacchio per tenersi pronto da battutaccia dei tanti tanti anni fa benjamin bratt 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 beh come ha detto benzer washington sarai dannato se lo fai dannato se non lo fai ha detto durante la trasmissione watch what happens live poi non so cosa intendesse però vabbè ci siamo capiti scott eastwood in the lodges ride essere sotto la doccia con una donna bella e sessi non è un dettaglio trascurabile ero eccitato e devo dire che mi sono divertito parecchio queste le parole di scott eastwood poi va bene c'era l'esempio del bond lino baffino quando gli dicono a lido sembra che stai svitata lampadino e tra lì che palpava le tette dell'herby fennig se non ricordo male che è uno dei perché non ce la faceva era in imbarazzo eccetera eccetera e se non erro non so se era pozzetto con lo stesso lino baffi che erano della del bagno dentro con una delle attrici più sessi degli anni 70 80 non so se era la stessa del bifrede c'è qualcun'altra e renato pozzetto se non erro era lui aveva avuto la risveglio del pennacchio anche perché sei del bagno con una donna nuda stradioca eccetera eccetera acqua calda il pennacchio si risveglia e lui doveva uscire dalla cosa detto aspettate un attimo che c'è un problemino lì sotto vabbè lasciamo perdere le citazioni dei degli attori dei film e passiamo a parlare di tempo se due orologi perfettamente sincronizzati fossero stati messi quando la terra si è formata uno nel cuore del pianeta e uno sulla sua superficie oggi servirebbero date differenti quello al centro della terra sarebbe di due anni e mezzo più indietro il lucro del nostro pianeta è dunque di 2,5 anni più giovane della crosta sembra l'ennesimo paradosso della fisica e invece è una realtà provata diretta a conseguenza degli effetti della gravità ed è scritta dalla relatività generale di albert einstein la posizione all'interno di un campo gravitazionale modifica la velocità relativa del tempo un'idea è un fatto completamente controintuitivi e tuttavia dimostrati sperimentalmente anche grazie agli orologi atomici dei satelliti gps benché in questo caso le differenze rilevate con gli orologi a terra sono dell'ordine dei secondi e non di anni i satelliti gps dimostrano quotidianamente l'effetto sul tempo causato dalla gravità nel 1960 il noto fisico e premio nobel del 1965 richard feyman aveva ipotizzato che la differenza di tempo tra il nucleo terrestre e la superficie dagli inizi della storia della terra ad oggi doveva essere di uno o due giorni in molti hanno dato credito a questo risultato altri hanno scettici altri ancora lo contestavano apertamente vista l'esigua differenza sul lancio di tempo così lungo successivamente il fisico un ricca un già poi spero di averlo pronunciato giusto università di harun si da di barca ha voluto verificare la questione anche perché pare che in un appunto separato feyman abbia scritto abbi edo giorni se la terra fosse omogenea la differenza di tempo tra il nucleo e la superficie sarebbe di 1,5 giorni ma poiché il nucleo molto più denso la differenza è di 2 di 2,5 giorni un genoa però ha perciò applicato le equazioni della relatività utilizzando la differenza di potenziale gravitazionale tra il centro della terra e la superficie scoprendo che la dilatazione del tempo è di circa 3 per 0,000000001 ossia 3 per di va bene qua non sto a scrivere perché se no facciamo notte un valore piccolissimo ma che moltiplicato per tutti i secondi di 4,5 miliardi di anni portano a differenza di 2,5 anni ovviamente è un calcolo teorico non possiamo mandare nessuno al centro della terra per verificare la realtà ma finora non siamo mai stati traditi dalla relatività ha commentato un joy che ha fatto lo stesso calcolo anche per il sole considerate all'enorme massa della nostra stella i calcoli suggeriscono che tra il centro più giovane e la superficie del sole ci sia oggi una differenza di età di ben 40.000 anni ringraziamo focus per questa bella notizia è interessante e curiosa comunque vediamo a questa terra sa notizia e anche qui parliamo del pennacchio il pennacchio molti uomini se vogliono di avere questa condizione ma per una persona è diventata un incubo 100 erezioni al giorno mette a rischio la vita di coppia di una coppia del regno unito lui ha 100 erezioni al giorno e quindi la finanzata diceva bene tutto ma regno unito siamo alla fine di agosto del 2022 ha 100 erezioni al giorno la finanzata vuole una tregua lui si chiama lucas martins 39 anni lei mickey brown 31 anni i due giovani si sono conosciuti durante look down quando il massimo della vita sociale era andare a fare la spesa durante quei giorni duri fare la fila al supermercato ha fatto sbocciare l'amore tra lucas e vic la storia tra i due è stata raccontata dal giornale inglese metro punto co.uk dove scritto che la vita di coppia soprattutto sessuale tra i due andava molto bene poi però la passione è iniziata ad essere una costante fissa di lucas che ha iniziato ad avere lezioni improvvise in luoghi anche poco opportuni per appartarsi con la partner mickey ha raccontato che il fidanzato era arrivato ad avere almeno almeno il che vuol dire che minimo ai 100 elezioni al giorno che divisi per 24 ore sono una ogni 15 minuti più o meno perché 24 per 4 fanno da 6 quindi vuol dire che 15 minuti già questo di un quarto d'ora puff 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 per lei era diventata estenuante quella vita e quindi ha deciso di andare a vivere da sola ma nonostante tutto non ha lasciato lucas il 39enne preoccupato ed intenzionato a ricucire il rapporto con la compagna anche perché adesso come adesso trovare una ragazza con cui hai delle affidità elettive stai bene ti trovi bene tutto bello tutto qui tutto non è semplice si è fatto anche visitare ma i medici non hanno trovato nessuna anomalia solo tanta voglia di avere rapporti con la fidanzata e si vede che deve essere una topolona da paura e come lui la pensa spluff c'è il risveglio del pennacchio per di più ce l'ha di fianco quindi vabbè ultima notizia curiosa curiosa il 55 per cento della popolazione mondiale vive in aree urbane scusate il mio raffreddore e l'ottanta per cento del cibo prodotto del mondo è destinata al consumo delle città dice la fao e quindi naturale che anche l'agricoltura urbana sia in crescita al punto che una percentuale compresa tra il 15 e il 20 per cento di tutto il cibo mondiale tra cui il 5 10 per cento di tutti i legumi tuberi e vegetali è proprio è prodotto è prodotta proprio delle città nonostante la crescente importanza dei raccorti urbani ci mancano ancora dati su quali piante funzionino meglio e su quali siano i costi e benefici della produzione in città un primo tentativo di riempire questo buco arriva dall'inghilterra dove un team composto da ricercatori dell'università di liverpool e il lancaster ha condotto uno studio che parte proprio dalla domanda quanto cibo possiamo far crescere delle aree urbane lo studio è stato pubblicato su house future pomodori contro mele lo studio in realtà un'analisi comparata di 200 studi precedenti condotti 53 diversi paesi tutti concentrati sull'agricoltura delle aree urbane l'analisi non ha preso in considerazione solo le aree verdi parchi orti urbani ma anche le cosiddette aree grigie strade tetti marciapiedi e tutte quelle parti di città che lasciano solo parzialmente spazio al verde la prima cosa che la ricerca dimostra che ci sono alcuni raccolti che crescono particolarmente bene in modo per così dire non convenzionali per esempio il pomodoro adatto alle coltivazioni idroponiche che sostituiscono l'acqua al suolo mentre la lattuga il cavolo e il broccolo crescono molto bene se coltivati in verticale altri raccolti sono invece poco adatti agli spazi urbani non si può prendere un bucchio di meli e accatastarli in una camera di crescita verticale ha spiegato florian paien primo autore dello studio sì ma quanto costa ci sono quindi prodotti agricoli che beneficiano delle limitazioni delle città e altri che invece ne soffrirebbero quello che non è ancora chiaro è quanto coltivare frutta e verdura in aree urbane sia efficiente dal punto di vista economico per esempio pomodori e lattuga in città devono crescere in ambienti costantemente controllati dal punto di vista della temperatura un costo che in campagna non va sostenuto non c'è dubbio però e l'ultima pandemia ce l'ha dimostrato che avere città più verdi e anche più indipendenti dal punto di vista alimentare non possa che essere un vantaggio e qualcosa su cui puntare forte nel prossimo futuro bene ragasoli con questo concludiamo anche la seconda secondo video di call news e naturalmente ci vediamo alla prossima ciao